Ciao a tutti, sono Alessio19870, gameplay di PES 12, partita Milan-Juventus, via! Formazioni del Milan, allora io sono la Juventus che affronta il Milan campione d'Italia, siamo Stadio San Siro di Milano, ecco Milano-Juventus, ecco i giocatori, un saluto a tutti da parte di Piero Gepato, ecco i che entrano in campo, ecco le formazioni del Milan, quella è la Juve, inizia per primo il Milan, ecco, via! Inizia la partita, la super sfida Milan-Juventus, 4, Boateng, recupera Pirlo, Marchisio, Matri, 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 ci prova! Abbiati, bel inizio, attenzione, Boateng ci arriva, Borussia, Marchisio, Marchisio, Matri, 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 ci prova! GOOOOO! 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 Matri, 1 a 0! Ma che gol che ha fatto! Un destro incredibile, ma bellissimo sto gol, bellissimo, Milan-0 Juventus 1! Ibraimovic, 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 fuori pochissimo di Ibraimovic, mamma mia che rischio che ha avuto la Juve! Bonucci, Barzagli, Pirlo, Marchisio, Pepe, Matri, Matri, niente deviata, Pepe, Matri ancora, Pirlo, e sbaglia, ricorda Bamboni, Tiago Silva, Nesta, Boateng, Gattuso, e recupera Pepe, vai! Matri, perde palla da Boateng, Gattuso, Tiago Silva, Taibo, Zedo, Bamboni, Boateng, Grande Pepe, e perde palla, Taibo, Zedo, del Cupra, NOOOO! Gattuso, Zedo, Zedo, Unbomber, Grande Marchisio, Pirlo, Matri, 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 ci prova! Nooo, non è possibile, non si può sbagliare un gol così, niente, parte Tiago Silva, Taibo, Taibo, avanza, c'è l'insteine che pressa, c'è l'insteine che pressa, c'è l'insteine, niente, Pidale, Marchisio, Borucci, Marchisio, Matri, 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 oh, Matri ancora, nooo, perde palla, Taibo, Nesta, Matri e Cupra, grandissimo, ci prova! Eh, centrale, Nesta, Abate, e finisce il primo tempo, Milan 0, Juventus 1, gol di Matri! ecco le azioni, ecco il gol di Matri, al decimo minuto del primo tempo, ma che gol! bellissimo gol di Matri! bellissimo gol di Matri! questo è di Ibrahimovic, che la butta fuori di pochissimo! ha preso anche il palo, penso! e questo è il gol del 2 a 0, clamoroso, non ci credo! ok, rispiazioni! passiamo al secondo tempo! e riparto io! via col secondo tempo! Marchisio! Borucci! Pepe! Chiellini! Marchisio! Pirlo! Vucice! Vucice per le palla! avviati! Borucci! Matri! Uh! Matri ancora! Ci prova! Nooo! Eh, non è possibile! Ma nooo! ma... pazzesco! non ci posso vedere! batto! recupera! Vucic! Vucic! Avanza! 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 Ci prova! No! Palo! Incredibile! Matri! Non è finita! Cross in mezzo! Nooo! Fuori! Non ci posso vedere il palo! Borucci grande! Vidal! Vucic! Ci prova! Alla lontano! Centrale! Ai vu! Sego! E non ci arriva Vidal! Ipaimovic! Sione! Cupra! Pazzagli! Grandissimo! Marchisio! Matri! Bene! Estale! Cupra! Abate! Gattuso! I cambi! Allora! Bonucci per Sorensen! E per pazienza! In attacco metto Quagliarella a posto di Vucic! Va! Ok! Mi segnalano che ci darà una sottiluzione! Sego! Van Bommer! Sego! Taibo! Attenzione! Corsi in mezzo! Ibrahimovic di testa! Palo gol! Il pareggio del Milan! E c'è il pareggio del Milan! E' possibile! Ibrahimovic di testa! Palo gol! Ehm... Vediamo! Ehm! Vabbè! 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 Il Milan pareggio! Uno a uno! Ma non è finita! Vabbè! Vabbè! Via, ripartiamo. Marchisio, pazienza, appena entrato. Pirlo. Attenzione. Sorense. Marchisio. Quagliarella. Cipro, no, deviata, attenzione, pazienza. Così penso, Pirlo. Non ci arriva, è fuori. Accidenti. Pirlo. Quagliarella. E perde, palla, no, recupera. Fallo e fallo. Punezione. Pazienza, pazienza, ci prova. Go! 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 Pazienza, 2 a 1. Vai! Il gol del capone di Minan. Faccio punizione, pazienza, lì. Tacchete. Pallonetto, gol. Li vediamo, li vediamo, li vediamo. Ponezione, sta lì, avanza, nessuno che lo ferma. Pallonetto, gol! Tacchete! E vai! Juventus di nuovo in vantaggio, come ho fatto con l'Inter, uguale, fallo, conizione. Come ho fatto con l'Inter, vincevo, pareggio e vinco, uguale. A partita di Juventus Inter. Pirlo. Barzaidi. Marchisio. Pazienza. Appena entrato, ha segnato. Matri. Ci! Però non... Fermato. Barzaidi. Pirlo. Pazienza. 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 Ci prova lontano! Abbiati in calcio d'angolo. Appena entrato, va. Pazzesco. Calcio d'angolo, potrebbe essere l'ultima azione. Parte la parabola di Pirlo. Matri. Non ci arriva. Da di voi ci arriva, però. La butta fuori. È finita, è finita, è finita! Finisce così, come ho fatto con Juventus Inter. Juve batte Mian 2-1. A San Siro, però. Allora, prima Matri, poi il pareggio di Ibrahimovic per pazienza. Ecco. Ecco. Matri ha 10 minuti del primo tempo. Questo è un bel gol. Pazzesco. Come ho fatto con Juve Inter. 2-1, lo stesso risultato della partita. Vinco. Poi pareggia e vinco. Però che ok, gol che mi sono... 3-4 gol. Sprecati. Mi sembra. E questo è il palo di Vucinic. Davanti al portiere, non ci credo. Ecco, il pareggio di Ibrahimovic. A 74esimo del secondo tempo. E' un bel gol di Ibrahimovic. E' un bel gol di Ibrahimovic. Questo è bella. Questo è bella. Tacchete. All'86esimo del secondo tempo. Ancora pazienza. Da lontano va. Pazzesco. Come ho fatto con l'Inter. 2-1. Pazzesco. Sì, l'azione di queste cose l'ho già vista. Queste paolo di Vucinic. Pazzesco. Ecco, il pareggio di Ibrahimovic. Ecco, il gol del capo. Tacchete. Pillo di pazienza. Palonetto. Gol. Diel Milan. Ok, l'azione. Ecco il risultato. Juve batte Milan 2-1. Come ho fatto con l'Inter. Steso risultato. Stessi gol. C'è la Juve in vantaggio. Poi il pareggio. Pareggio l'altro avversario. E poi la Juve di nuovo in vantaggio. Bene. Quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Pest 12 partita Milan-Juventus. Finita 2-1 per la Juve. A San Siro. Quindi un ciao da Alessio19870. Alla prossima! Alla prossima!